Quel che è certo è che lunedì prossimo la città di Riccione si sveglierà con una sindaca. Le due candidate, Renata Tosi, lista civica supportata dal centrodestra, e Sabrina Vescovi, partito democratico, lanciano un ultimo appello. Chiedo la bontà di esprimere una preferenza nei miei confronti perché mi impegnerò affinché in questa città ci sia sempre più cura, più decoro, più attenzione nei confronti di tutti, partendo per l'appunto dai quantieri, ma nel contempo si abbia anche forza e coraggio di osare e di fare un snancio in avanti per quanto riguarda la nostra più importante economia, che è l'economia turistica, questo perché il lavoro è una delle mie più grandi priorità alle quali appunto dobbiamo dare una risposta, ma una risposta concreta. Riccione Unita rinasce, è lo slogan che ho scelto per questa ultima fase della nostra campagna elettorale dopo aver ascoltato per oltre due mesi i cittadini riccionesi. Questa è una città che ha bisogno di pacificazione, ha bisogno di serenità, ha bisogno di abbattere steccati e muri ed è soprattutto una città che ha bisogno di grande ascolto. Io mi impegno ad ascoltare tutti i riccionesi, indipendentemente da quale sia la loro appartenenza o la loro provenienza, perché quello che serve a Riccione è ripartire guardando al futuro, prescindendo dagli steccati e dalla litigiosità degli ultimi tempi.